Ciao a tutti, sono Floriana e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è arrivato il pacco di Faberlic e sono qui pronta per mostrarvi tutto ciò che è arrivato. La campagna in corso è la numero 4, che è iniziata l'8 marzo e termina il 28 marzo. Per chi si iscrive in questa campagna, oltre ad avere dei prezzi bassissimi, perché ci sono sempre sconti e offerte a non finire, riceverà questo bellissimo regalo di benvenuto. Cioè bisogna iscriversi in questa campagna, quindi avete tempo da oggi fino al giorno 28 marzo, giusto, e fare un ordine di 30,99 euro per ricevere nella campagna successiva questi tre regali. Sarebbe una pochette, un mascara, una tinta labbra, la colorazione a vostra scelta. Questo regalo al valore di 20,47 euro, Faberlic ve lo regala. E come ogni campagna Faberlic fa dei regali di benvenuto. Questo è, devo dire, che è un regalo molto carino per i nuovi iscritti in questa campagna. Quindi vi incoraggio a iscrivervi. Io lascerò un link in info box, così potete iscrivervi voi stessi, altrimenti se preferite farvi iscrivere da me, ci mettiamo d'accordo e vi iscriverò io stessa. Adesso iniziamo subito, così dimostro subito tutto quello che è arrivato. Allora, come sempre la fattura, quindi lo scontino con tutti i codici dei prodotti. Poi ho ordinato questa vellutata di legumi con paprika fumicata. Questi sono dei pasti completi, con una confezione di questo potete fare cinque pasti. e sono studiati proprio da nutrizionisti e sono, fra le altre cose, gustosissimi. Infatti mi sto comprando spesso perché mi piacciono molto. E questo è il primo prodotto che vi mostro poi. Allora, vediamo un po', è arrivato questo prodotto della linea Clean Team. Vediamo cos'è. Dovrebbe essere prodotto per fissare le sopracciglia. Vediamo un po', sì, è quello, eccolo qua. È prodotto per fissare le sopracciglia. Poi è arrivata questa della linea Beauty Lab. Sarebbe un correttore. Questo correttore si adatta proprio alla perfezione del vostro colorito della pelle. Infatti esiste un'unica colorazione perché in base proprio al colorito, al calore della pelle, si adatta. Quindi va bene per chiunque. È ottimo questo correttore. Copre bene, nello stesso tempo è molto delicato. Bello, un bel correttore. Poi, come sempre, ordino delle barrette. Queste sono al cioccolato e a cocco. Le ordino spesso perché mi piacciono tantissimo. Queste sono proteiche e sono ottime per fare degli spuntini. O alcuni usano anche per dei, proprio per sostituire un pasto. Poi è arrivato questo mascara di un'eleganza incredibile. Perfetto quanto è bello. Arriva con la sua custodia in velluto. Ecco, è di un'eleganza incredibile. Elegantissimo, bellissimo, con questo colore. Bello, veramente. Poi, vi dico il codice di questo perché è troppo bello. È così bello, se magari volete ordinarlo. È 6589. Questa mascara qui, nero, effetto volume. Insomma, è anche un ottimo mascara, oltre ad essere bello. Poi, questa bellissima palette, ve la posso aprire perché l'ho ordinata per me. Ho la colorazione satinata, la confezione satinata al color dorato. Eccola qui, ha dei colori molto, molto belli, delicati. Allora, qua c'è il suo spiecchietto. E questi sono i suoi colori. Bella. Questi palette scrivono benissimo. Poi, mi è stata ordinata questa matita che è uscita nella scorsa campagna. Sono ottime queste matite. Questa è per matita per gli occhi, il colore è blu. La particolarità di queste matite sono tutte dorate. Poi, alla parte dietro, c'è proprio evidenziato il colore della matita. Così potete subito trovarle in mezzo alle altre matite. Quindi, si distinguono da questo colore. In questo caso, infatti, è blu. Poi, questa spugnetta. Spugnetta effetto antibatterico. Da una parte la spugna, da un'altra parte la retina. È ottima questa spugnetta. Lo sto utilizzando, infatti l'ho presa un'altra perché mi sto trovando molto bene. Poi, mi sono stati ordinati questi lucidalabbra burro cacao. Emolliente labbra. Sì, questi due emollienti labbra. Ecco. Mi hanno ordinati. Poi, ho ordinato questa novità che è uscita da poco. Questo bagno schiuma. ha la profumazione di mucchetto. Anzi, lo sentiamo subito insieme. Vediamo un po'. C'è lo scotch perché tanto questa è mia. Quindi... Mmm, bello. Bello, molto fresco. Una profumazione fresca primaverile. E questo è un nuovo bagno schiuma. Poi, della linea storia d'amore, questa saponetta a forma di fiore. Molto bella e super profumata. La profumazione di ciliegio. Molto bella. Poi è arrivata tutta una linea completa per i capelli, per la perdita dei capelli. Della linea Expert Pharma. E ci sono le fiale per la perdita dei capelli. Questo qui è uno spray attivatore. Sempre della stessa linea. E poi c'è lo shampoo. Sì, sono tre in tutto. Credo di sì. Tre prodotti. Shampoo, fiale e lo spray attivatore. Per tutti e tre. Utilizzati tutti e tre. Sono perfetti per chi ha problema di caduta dei capelli. E di questi... Cioè, me ne sono arrivati diversi perché me ne hanno ordinati di diverse confezioni. Ok. Poi, compreso tutte le fialette. Allora, poi... è arrivato questo bellissimo profumo. Gentleman. Lo apriamo perché tanto è di mio marito quindi lo posso aprire. Eccolo qua. Guarda che bella. La confezione è molto bella. È bellissima. Gentleman. Questo l'ho preso con lo sconto del 70%. Perché chi si iscrive a Faberly che ha tanti privilegi, tanti sconti potrebbe avere anche la possibilità di prendere dei prodotti con lo sconto. In questo caso l'ho preso con il 70% di sconto. un bellissimo profumo. Ho sentito poco fa anche la profumazione. Una cosa buonissima, veramente. Buona buona. Una bruttima profumazione. Questo dovrebbe essere... le note di questo profumo sono legnose. Poi sono arrivate queste compresse si chiamano compresse integratorie alimentare anti-stress. colgo la carta così si vedono meglio. Queste qui sono anti-stress che oltre appunto a eliminare lo stress anche ti ti fanno avere un buon umore. Queste per chi le ha utilizzate mi hanno detto che sono ottime che veramente fanno il suo lavoro. Quello che promettono mantengono. Poi è arrivata questa matita universale smacchiante. Questa serve ottima pure. Questa la sto utilizzando e mi trovo molto bene fatta in questo modo. Praticamente quando voi avete delle macchie dappertutto sui vestiti su qualunque tessuto basta bagnare la parte dove c'è la macchia bagnarlo un po' e strofinare con questa matita e elimina qualunque tipo di macchia anche macchie di inchiostro qualunque tipo di macchia le elimina. è fantastico e poi man mano si toglie la carta che c'è attorno quando si consuma. È un prodotto fantastico. Poi a proposito di prodotti che tolgono le macchie questo smacchiatore spray anche questo è fantastico elimina le macchie dalle camicie dai polsini dai colletti dalle tovaglie da tavola dappertutto qualunque tipo di macchia anche le macchie d'olio di sangue elimina tutte le macchie questo è anche fantastico poi questa crema per le superfici metalliche che questa è pazzesca elimina pulisce alla perfezione tutto è in crema e potete pulire le superfici in acciaio le pentole il rame addirittura anche i bracciali in argento è un ottimo prodotto anche questo poi questa crema universale per pulire tutta dappertutto potete pulire le fughe la cucina il bagno tutte le superfici lavabili in crema questo è fatto in crema ottimo pure poi questo abbinamento di queste tre creme allora queste sono le creme della linea vario questa è una crema da viso per il viso e questo in particolare è idratante è un formato da 50 ml ve lo faccio vedere è così eccola è abbinata a questa crema c'è la crema con tornocchi e il siero in questa linea voi potete scegliere il siero che più vi interessa in questo caso il siero che ho scelto io è siero anti rughe ma potete prendere il siero alla vitamina c e tanti altri ci sono che si avvinano proprio a queste a questa crema si può mettere addirittura all'interno delle gocce perché è fatta a gocce voi lo faccio vedere se riesco ad aprirlo ecco sì eccolo qua è fatto così ha il contagocce vediamo un po' così e quindi voi potete mettere alcune gocce di questo siero all'interno della crema oppure potete utilizzarlo anche da solo ok e poi sono mi sono stati ordinati questi spray per l'ambiente in base d'acqua uno è le bacche invernali e l'altro mi sembra fiori di primavera sì bacche invernali e fiori di primavera questo potete spruzzare dappertutto una base d'acqua sono non fanno male assolutamente alle persone e ai bambini poi allora questo shampoo della linea Barbelab questo è shampoo gel doccia sia shampoo che gel doccia poi questo prodotto per deodorare le scarpe questo mi è stato ordinato e poi questi due deodoranti roll on della linea la creme questa profumazione le mandorle è fantastico io lo sto provando e lo sto utilizzando e mi provo molto bene e poi sempre della linea Barbelab da uomo sono questi deodoranti appunto roll on per uomo anche questi sono ottimi gli ultimi due prodotti allora sono arrivati questi questi pasti particolari questi sono in particolare sono degli integratori alimentari questo è fatto in particolare alla fragola è la prima volta che utilizzo questa la fragola l'ho presa al cioccolato e alla vaniglia che quello che il mio preferito era la vaniglia questa la fragola non l'ho ancora assaggiato ma mi hanno detto che è buonissimo ci sono anche all'interno pezzetti di fragola questo ha 98 calorie a porzione questo qui si può bere per colazione per pranzo o per cena per sostituire un pasto o un pasto o due pasti massimo al giorno potete sostituire però potete aggiungere visto che ha pochissime calorie ne ha solamente 98 calorie potete aggiungere un po' di frutta dopo aver mangiato aver bevuto in questo caso questo prodotto fantastico e niente vi saprò dire quando lo utilizzerò questo io nel mio caso lo utilizzerò per colazione ok e allora un altro prodottino che è arrivato è questo sempre passo sostitutivo che in questo caso è una zuppa a base di pomodoro e basilico questo l'ho ricevuto in omaggio ordinando questo prodotto questo in automatico mi è arrivato in omaggio e quindi questo non l'ho mai provato e anche questo lo utilizzerò presto e vi saprò dire grazie per aver visto questo video vi ricordo sempre se vi fa piacere di iscrivervi in questa campagna così potete ricevere questo bellissimo regalo oltre ad avere tante promozioni tanti sconti e insomma poi siamo un team molto affiatato dove ci aiutiamo tutti ci sosteniamo e quindi se vi iscriverete con me farete anche voi parte di questo team grazie ancora ciao alla prossima